Angela Cerbi fra il film radio Roma Festa del cinema di Roma non riesco mai a dirlo sono con Katia Bernardi buongiorno e con Susanna Tamaro buongiorno per il documentario inedita inedita è un'immagine inedita di Susanna Tamaro questo è il diciamo la super sinossi allora volevo chiederti Katia come è nata l'idea e come avete lavorato tu e Susanna per svelare come l'hai convinta innanzitutto a svelarsi così tanto e come avete poi lavorato per la costruzione narrativa del film inedita nasce tre anni fa ormai quindi è un lungo viaggio per scoprire Susanna e per conoscersi perché è anche il frutto di una bellissima amicizia profonda che è nata fra me e lei in questo in questi anni e nasce da un incontro molto divertente che probabilmente ha segnato già la strada di questo documentario perché Susanna tre anni fa mi ha scritto un messaggio in facebook in aspettato la mattina di Natale per chiedermi di incontrarla io pensavo in un incontro formale con un caffè in un bar con una vecchia scrittrice sì o comunque insomma invece l'incontro è stato con lei che mi aspettava in una rotonda a 1500 metri con due slitte e da lì è cominciato e hai capito dove comunque il viaggio il viaggio sarebbe stato molto strano e inedito sicuramente è rischioso è rischioso beh rischioso però molto affascinante devo dire perché c'è stato c'è stato molto coraggio anche da parte sua sua signora tamaro per di di svelarsi raccontarsi così tanto perché il film spiega no che c'era un'immagine pubblica che era prima idolatrata e poi buttata giù dalla torre velocemente anche anche con una cattiveria un filino e troppa eccessiva e poi lei ha si è staccata da quel mondo e poi però adesso ci rientra perché con questo film è inevitabile che uno ri rivaluti la propria impressione che aveva su di lei no cosa l'ha portata a decidere il momento che io mi presenti ma è stato un fatto abbastanza naturale fisiologico perché a un certo punto io sono stati quasi trent'anni no di vita pubblica 30 anni 25 anche di cattiveria risulti io ero un po triste perché io non sono niente a vedere con la mia immagine pubblica siamo propagata dei media po niente e quando incontrava che mi elettorice ma signora roley sapevano che non era così però non era mai stato divulgata la mia vita proprio divulgarla ho bisogno di qualcuno con chi era in perfetta sintonia che non fosse una persona ideologica non fosse una persona ma neanche una persona adorante per esempio io a kati ha lasciato carte bianche non ha mai detto fai questo però detto fai quello che vuoi perché mi ha totale fiducia io poi soffro della sindrome di asperger da quando sono nata evidentemente purtroppo però per tanti anni non mi è stata diagnosticata dunque io ho avuto una vita di una grandissima sofferenza neurologica che si pagava anche nella vita pubblica perché io avevo un nemico con me che non sapevo che volta aveva ce lo conoscevo che mi ammazzava però non momento in cui ho capito qual era il mio problema e l'ho capito cinque anni fa la mia vita è cambiata adesso io so chi è il mio nemico e so anche come gestirlo e come vincere o no però no vincere o no dunque questa è la libertà poi di potermi raccontare con questo grande problema che è un grande problema e ho pensato anche poi aiutare molte persone che hanno questo problema genitori che hanno figli con questo problema a capire le strade per sopravvivere è incredibile che questa questa coscienza del suo problema si è avvenuta così tardi pazzesca tutta la vita neurologi psichiatri e nessuno aveva mai nessuno ha mai capito che cosa avevo è stata una cosa pazzesca io ho avuto problemi fin dal primo giorno di asilo sempre sempre grossi problemi ma all'epoca non si conoscevano le stime autistiche no all'epoca magari no però però crescendo tuttora c'è una grande ignoranza che da un lato si pensa a una Rayman a queste immagini cinematografiche e no non si pensa oppure si pensa non si pensa alla quotidianità di una persona devo dire che ci sono state fatte un paio di serie televisive fatte molto bene su questo genere però è vero che era sempre una cosa che si lasciava sempre un po' di nascosta nell'ombra e poi soprattutto nelle ragazze è più criptico perché nei maschi i maschi sono un po' più semplici come la gestione come struttura generale nel bene il maschio è abbastanza facile individuarlo ma una femmina è più mimetica della stessa natura femminile per cui riesce una volta che capisce che qualcosa non va riesce a mascherarsi abbastanza fino a un certo punto poi magari si ammazza però fino a un certo punto ce la faccio volevo chiedere un'altra cosa che mi ha molto colpito del film c'è questo questo aspetto della natura che non è solo estetica mettiamo delle belle immagini ma è molto inserito nella nuova personalità di questa nuova Susanna Tamaro che noi non conosciamo e che il film ci fa conoscere è stato è stato l'avete ragionata questa cosa vero perché si sente che non è buttata lì sono contenta che me lo chiedi sì è proprio legato a Asperger nel senso che la mia difficoltà più grande era tradurre in immagini o in parole parliamo di cinema in immagini riuscire a tradurre la percezione anche che ha di Susanna della realtà e Susanna poi vive in questa fattoria meravigliosa è un'esperta di piante animali insetti soprattutto quindi in maniera quasi mancata assolutamente e quasi in maniera positivamente ossessiva no e quindi quello che ho tentato di fare nel film è di proprio visualizzare con queste macro e accentuare proprio tutti tutti gli aspetti legati alla natura ma anche con immagini che fossero di i dettagli perché Susanna spesso mi ha raccontato che la percezione delle persone che soffrono di Asperger è proprio parte spesso dal dettaglio sì c'è un'ossessione quasi ci si fissa vedi solo una cosa che nessuno vede ma tua attenzione è al 100% lì che sei molto disturbante e questo nuovo questa riscoperta di sé che ha avuto in questo le ha anche modificato che un po' nel film si capisce ma non è chiarissimo le ha anche modificato la lettura del suo passato cioè riesce a rapportarsi con il suo passato in un modo diverso sì perché ho capito anche tante origini tante fraintendimenti no e ha dovuto il fatto che io sia una persona autistica non capivo le domande dei giornalisti e rispondevo in modo mai furbo tra virgolette dunque mi ammazzavo da sola sì 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 quello che diceva prima il nemico nemico dentro quanto avete dovuto tagliare io chiedo sempre questa domanda perché mi affascina molto soprattutto in un documentario dove si sa si gira tantissimo poi però a un certo punto bisogna arrivare a un montaggio finale che regga e che abbia un senso ma il percorso è stato lungo perché poi abbiamo girato per tre anni poi c'è stato blocco covido un anno quindi sono stati incontri veramente frammentati nel corso di tre anni che però probabilmente sono stati necessari proprio perché è stato un incontro di conoscenza anche prima no quindi ci siamo conosciute piano piano è nata la mia urgenza di voler raccontare la sua urgenza di raccontarsi però secondo me non abbiamo fatto un lavoro esagerato di ci sono state delle riprese iniziali che sono state più di ricerca sicuramente poi anch'io ho capito la strada giusta abbiamo anche cambiato devo dire truppa insomma è stata una ricerca non siamo mesi subito abbiamo fatto un periodo di interlocutorio i tempi lunghi sono stati molto utili secondo me fondamentali e questo tempo interlocutore ha anche servito a lei per il suo rapporto con la macchina da presa perché tante persone hanno bisogno di abituarsi un po ad avere questo occhio curioso delle foto e tutto però con Katia non mi sono mai sentita osservata troppo osservata se ho fatto delle foto a un fotografo mi è il terrore assoluto c'è la faccia da cane bastonato ma se ma non è solo lei perché su santissimi libri ci sono le foto degli autori che mettono una grande tristezza quindi secondo me è quel tipo di foto lì che è il terrore assoluto proprio ma ecco tu Katia parlavi di 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 urgenza una tua urgenza di raccontare una sua urgenza di farsi raccontare eravate subito sulla stessa lunghezza d'onda o ci avete dovuto mettere un po sulla motivazione di questa urgenza perché non era la stessa motivazione o sì siamo molto affini quindi devo dire che ci siamo trovate quasi subito all'inizialmente abbiamo lavorato un anno per fare un film quindi e volevo fare un film insieme in film tratto da un suo libro dopo di che io tutte porte chiuse e poi si poi a difficoltà di riuscire ovviamente poi siamo tutte donne a fare un film anche la produzione che vorrei ringraziare che è gioia vantaggiato e laura romano che veramente ci hanno sostenuto e era era i cinque che ci ha che ci ha permesso di fare il film e e poi devo dire sì che all'inizio la mia urgenza era perché quando conoscendo susanna come spettatrice e quindi come personaggio pubblico quando ho iniziato a frequentare casa sua ea vedere lei che fa arti marziali con questo gruppo straordinario di allievi le tigri di porano l'agricoltura le api e poi le persone andavo in giro mi sono trovata in giro con lei e roberta con questo camper verde acido vestvalli anni 70 io dico susanna mettiamo il film da parte facciamo un film su di te anche proprio come persona donna coraggiosa fuori dagli schemi libera cioè quello la mia urgenza era anche di raccontare un personaggio sì sì che allora lì vi siete trovate su quello vi siete trovate esatto che lei aveva urgenza di essere far vedere quello che lei era il suo essere libero e lei dice nel film a un certo punto lei diceva la libertà si paga quindi la susanna ha pagato questo io volevo raccontare una donna che ha pagato il fatto di essere libera non etichettabile e lei l'ha pagato forse due volte l'ha pagato prima senza rendersi conto che stava pagando e poi ha continuato a pagare coscientemente ecco quindi poi io lavorando molto su in quanto donna anche con storie con personaggi femminili lei era no il risultato è veramente stupefacente da questo punto di vista qua parte dal punto di vista estetico del film che ha anche un equilibrio narrativo e anche di lunghezza grazie giusto perché ci sono tanti c'è tanta ridondanza ultimamente un po troppa e però è proprio è affascinante questa scoperta di lei che nessuno immagina ecco e questa nuova riscoperta la porterà anche deve diventare scrittrice cioè lei ha continuato a scrivere di suo perché nel libro dice che scriva scritto tonnellate di carta pubblicato 30 libri e manoscritti molti di più e senti ancora l'urgenza di essere pubblicata di dire qualcosa è stata una grande stop nel senso che per le persone creative il cover è stato un buco nero tutto l'energia in questo momento di stordimento si avrei voglia di scrivere ancora delle cose molto diverse io cambio sempre cioè io penso che un artista vero si evolve e ricchiando arrivano a fase ancora più creativa ma diversa dalle altre però mi piacere molto anche fare cinema perché in fondo io nasco come cineasta i miei libri sono tutti visivi perché se una persona spera che non sono elucubrazioni intellettuali io ti dico in vari porta al cuore la sposa infelice vede gli scarafaggi e mangia un suo vestito libri sono tutti immagini 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 ma io nasco come regista mi piacerebbe molto poter fare un film con katia lanciamo questo appello e poi c'è un'altra cosa che uno scrittore ha un grande problema che lavora sempre disperatamente solo non sa che vuole fare e nessuno ti può aiutare tu sei la scrivania e adesso cosa faccio non lo so invece nel cinema lavori con gli altri e io sono veramente stufa di lavorare da sola però questa solitudine un po l'ha aiutata ai tempi nel senso questa capacità di essere autosufficiente mi ha aiutato il fatto che io avevo una vita che era totalmente fuori dal mondo diciamo delle lettere al mondo mondiale io faccio artimanale quasi a 40 anni vado ai convegni vado gli allenamenti giro l'europa vado faccio vado le api ho tutto un mondo sociale di mia vita affettiva di relazione che fuori dal mondo c'è insomma una persona famosa nella vita privata capito e questo mi ha salvato perché se fosse solo la persona famosa sarei morta sarebbe stata schiacciata bene vi ringrazio molto grazie catia e bernardi e grazie a susanna tamaro per essere stati con noi per il film inedita alla festa di cinema di Roma io sono Angela Cervi per Fred the Festival Insider